Vabbè, scusi, mi sono organizzato per fare tutte le cose mie. No, no, non ti preoccupare, ci penso io ai bambini. Lascia fare a me. Et voilà, et voilà, le ci sono fai. Mamma mia, c'è così, è pesante, eh? Tu hai bisogno di una vacanza da solo. La moglie, a casa. Eh, che cosa? Intanto. L'ossigeno, l'ossigeno. Sentite che si mette la macchinetta a prova. Così, eh? Ma scusi, fammi capire, ogni tanto ti dà ragione? Beh, ogni tanto sì. Quando la penso come lei. Beh, è già qualcosa.